buongiorno a tutti e ben ritrovati nello spazio di librare oggi ho una gradita graditissima ospite lei è una nostra cara amica ormai da tempo vero lei è elena parigi buongiorno buongiorno marina buongiorno io sono molto contenta di averti qui perché tu ogni tanto mi mandi questo messaggio dove dici sono pronta con un nuovo romanzo vero e io non vedo l'ora di leggerti perché tu scrivi veramente benissimo grazie scrivi qualcosa sempre di originale nuovo devo dire perché nonostante a volte la tematica possa essere già stata trattata in realtà è una modalità tutta personale tua e questo io lo adoro negli scrittori perché li identificano rispetto agli altri grazie grazie mille ora arriviamo alla parte dolente dimmi sono partita con la lettura ho pensato oh mio dio devo prendere nota non me li ricorderò mai tutti questi nomi mi è stato detto sì e ho cominciato a pensare davvero non ce la farò mai perché i personaggi che si articolano in questa storia sono tantissimi cioè se io ve li iniziassi a leggere a parte la famiglia parini sì perché questa è una storia familiare diciamolo e il libro si intitola un'estate con carolina che è la protagonista esatto ma poi abbiamo vabbè giada che è la mamma di arabella cugina carolina alessandro busi il medico cardiologo l'amico e anche michela del salone di bellezza perché assolutamente potevamo farcela mancare no lei serve serve il salone arrivo nella la governante che insomma è la mia preferita e luigi il giardiniere anche lui mi piace tantissimo riccardo francesca sofia federico i ragazzi del corso di pittura perché ovviamente non potevano ma carina dipinge dopo ne parleremo ma abbiamo anche animali domestici certo con dei nomi pazzeschi leopoldo che è meraviglioso che è il barboncino e matilde che è la gatta allora quindi spaventata e terrorizzata da questo mondo ho pensato non ce la farò mai e invece il libro si legge velocissimo ma perché le pagine ti prendono e voglia di capire cosa sta succedendo bene io oggi però non vorrei raccontare la trama perché mi piacerebbe tanto noi l'abbiamo nascosto qua dietro ma io il libro vorrei farvelo anche vedere magari eccolo qui un'estate con carolina di elena parigi lo ripetiamo mi piacerebbe che le persone se lo leggessero sì e quello che vorrei raccontare oggi invece è chi è o meglio com'è carolina perché lei è la protagonista di questo romanzo allora innanzitutto un'estate con carolina perché la protagonista è proprio questa carolina che è un personaggio molto 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 divertente e molto particolare e mentre io scrivevo questo romanzo ero proprio felice nello scrivere nel volermi svegliare alla mattina a prendere in mano il computer e scrivere e quindi spero che questa gioia sia anche bypassata attraverso le le mie pagine ok quindi innanzitutto l'ho scritto con pochissima traccia preparata perché è un difetto se lo dovesse dire a dei ragazzi che vanno a scuola non fate la traccia sarebbe un error raccio fatelo error racciaccio fate la traccia io non l'ho fatta in questo caso perché avevo le idee abbastanza chiare quindi c'è questa introduzione a una vita particolare della protagonista della quale però come diceva marina serve un po un flashback per capire chi è questa persona quindi qui andiamo un attimino a entrare nella nella in una trama intricata di mini saga familiare mini che tra l'altro ho abbastanza diciamo ristretto al minimo in quanto sono tutti figli unici meno male sono tutti figli unici no perché poi lo leggerete il libro ma veramente a un certo punto speri che non compaiano altri figli perché se no è difficile io infatti ho detto non complichiamoci l'esistenza tutti sono figli unici piace piaciuta tutti sono figli unici poi per fortuna usciamo dalla mini saga familiare ritorniamo nel mondo solo di carolina che ha una cugina non ha né fratelli né sorelli dai vi ho reso la vita abbastanza facile ha una cugina ha una cugina giada giada bravissima che bel nome si 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 tra l'altro ho passato anche in rassegna i miei nomi preferiti ho scelto ma ci sono dei nomi selezionati che sono veramente bellissimi si potrebbe prendere a spunto su quello in realtà segnavo però i nomi dei protagonisti con l'età perché poi anche con l'età stessi io sbaglio quando scrivo dico magari questo nel 2000 età l'aveva vent'anni adesso mi ha 25 questo invecchiato cinque anni in 15 però questo dimostra il rispetto che hai per il lettore io lo dico sempre perché significa che non si scrive tanto per scrivere o per se stessi ma si scrive anche per raccontare qualcosa di concreto tangibile reale quindi se un protagonista avesse 12 anni e parla come uno di 50 vero stonerebbe particolarmente nella testa del lettore questa cosa non funziona invece nei tuoi romanzi funzionano i personaggi mi sono chiesta quando sia stato difficile gestire tutte queste personalità ma in realtà questo romanzo è stato anche un una bella prova una bella sfida con me stessa perché ho messo proprio alla prova me stessa sul discorso del della descrizione della persona è vero che è una cosa che ho approfondito molto e questo approfondimento nelle descrizioni non c'era nel primo romanzo assolutamente che ho scritto nel 2014 quindi ero anche un po acerba avevo 25 anni ma poi si sente questo passaggio e questa maturazione mettiamola così proprio a livello anche di stesura mi fa piacere mi fa piacere che tu da lettrice quindi non me lo dica sì quindi ho proprio voluto approfondire la descrizione dei personaggi sia fisica che psicologica ma tu non ti accontenti dei personaggi no tu ci racconti di un mondo che è meraviglioso perché a un certo punto a far da sfondo a tutta questa storia c'è un luogo che è villa clotilde vero è un luogo magico e quello che mi è piaciuto che a un certo punto sei tu proprio a definirlo il luogo della libertà o meglio carolina grazie alla tua gli dato un'imboccata insomma è il luogo della libertà ma quello che mi piace che tu sottolini non è libertà di fare ciò che si vuole e basta è una libertà di sperimentare scegliere crescere ma nel rispetto assoluto degli altri e di determinate regole che sono alla base del comportamento vero quindi questo messaggio che arriva è molto forte sì era intenzionale è nato così sì sì questo si percepisce appunto quando carolina introduce come sarà la vita qui in villa clotilde a rabella perché non l'abbiamo detto prima io e marina abbiamo saltato un passaggio giustamente non vogliamo parlare troppo della trama se no non leggete il libro però c'è questa rabella che è figlia di giada la cugina facili ok ci siamo che viene in italia non vi dico perché però è un evento un po clamoroso sì ma non si può dire non si può dire e quando lei arriva in italia la prima cosa che nota è quanto sua cugina sia libertina ma proprio nelle piccole cose ok ma anche solo quello che mi è piaciuto lei si sveglia la mattina la braccia le dà un bacio è vero questa emotività l'affettività questa effettività così espressa liberamente sembra una cosa strana in realtà dovrebbe far parte di una quotidianità che ad arabella però manca manca perché la mamma appunto giada che vive a londra ed è una donna d'affari ha una freddezza e un'algidità incredibile è esattamente diciamo l'opposto è l'opposto di carolina e quindi sono due cugine che difficilmente sembrano andar d'accordo anche se sappiamo che in origine poi lo scoprirete quel famoso albero genealogico in realtà erano molto vicine quasi due sorelle quindi si compensavano diverse ma si compensavano esatto ma a questo punto c'è anche un riferimento ai libri perché non poteva mancare dove arabella arriva e dice beh ho finito di leggere il mio ebook su un ipad e c'è veramente da parte di carolina un momento di difficoltà incredibile e dice tu sei impazzita non si può far così bisogna leggere il libro di carta quindi ti faccio una domanda scomodissima tu sei solo pro carta o solo pro lettura perché sono due mondi diversi nel senso che c'è chi sposa le book chi sposa la carta e chi dice vabbè insomma tutto sommato importante è leggere che diciamo qua l'importante è leggere ok l'importante è leggere però su carta è meglio si proprio sentire un qualcosa nelle mani ma anche il poter fare un orecchio infatti dico proprio anche il viverlo a livello di segnare sottolineare scarabocchiare è bellissimo senti un po villa clotilde è un rifugio per loro si e dice a un certo punto sempre in questo tema di anche differenza tra un mondo reale un mondo che può essere finto parlando magari legato al discorso social perché poi c'è anche questo accenno a un certo punto si legge proprio l'isolamento da quel mondo finto dona solo serenità e ti riconnetta al mondo vero vero tu hai un luogo in cui ti rifugi un luogo fisico piuttosto che un luogo metafisico chiamiamolo così beh anche per me è casa casa mia è una casa comune non è villa clotilde chiaramente lì insomma c'era lì è proprio una è una dimora che tra l'altro non è nemmeno inventatissima è proprio preso spunto da una dimora storica che c'è nel paesino di chiuduno dove proprio è ambientato il libro quindi veramente chiuduno c'è una dimora molto simile a villa io infatti volevo anche arrivare lì perché il dettaglio che voi troverete all'interno proprio della parte più descrittiva chiamiamola così dei luoghi ti porta fisicamente in questi luoghi e volevo capire se tu ti rifatta un viaggio fisico dove li avevi visti perché sembra che tu ci possa fare una sorta di come se ci fosse una telecamera si inquadra quel luogo è un drone che esatto io l'ho visti davvero grazie alle tue ha letto scritto bene bene sono contenta e ha funzionato così si è andata fisicamente a vederli allora questa questa dimora di chiuduno l'avevo vista fino a quest'estate soltanto dall'esterno quindi gli interni sono molto romanzati sono figli della mia fantasia perfetto però ci sono andata abbastanza vicino perché poi sei riuscita a entrare perché sono riuscita a entrare perché la proprietaria è ancora è praticamente una coscritta della mia nonna a 88 anni entrambi e io ho sempre implorato mia nonna fammi conoscere la è anche dovrebbe avere ancora il titolo tra l'altro lei dovrebbe essere ancora contessa o comunque donna ok questa donna particolarissima super che si chiama dada bellissimo questa donna dada l'ho conosciuta quest'estate per la prima volta quindi ho visto gli interni per la prima volta quest'estate però non ci sono andata lontanissimo io vorrei adesso spoilerare una cosina ma tanto poi lo scoprono durante il percorso senza raccontare della storia della trama però a un certo punto c'è proprio uno switch carolina si racconta si racconta apertamente in modo molto libero come il suo personaggio e grazie a questi racconti però passano dei messaggi importanti per esempio viene affrontato il tema dell'amore ma ripeto in un modo differente rispetto al solito grazie al signore perché solitamente siamo abituati ad avere sempre un po la stessa pappa vero e invece così carolina racconta di questo amore a volte anche travagliato si sempre particolare molto particolare e questa cosa mi è piaciuta perché racchiude un po tanti tipi di amore non lo omologa su un'unica tipologia è vero e tanti di noi potrebbero poi ritrovarsi in alcuni dei passaggi è vero è vero quindi è nato così questo switch che l'hai fatto fare apposta ti puoi ritrovare in uno degli innamorati di carolina dire cavolo anch'io ho avuto un innamorato del genere oppure mi piacerebbe avere magari avere un genere sì quindi anche questa cosa è molto particolare del libro io ora non so se tu hai delle in programma delle presentazioni o quant'altro allora dare qualche informazione due presentazioni sempre zone bergamo provincia di bergamo quindi ora mi devo attivare per programmare qualcosa nelle zone brescia provincia di brescia e noi come faremo a trovare il libro innanzitutto ad acquistarlo perché va acquistato questo libro c'è poco da fare informazione l'ho detto io l'ho detto tantissima informazione importantissima e come facciamo ad avere tutte le informazioni relative ad eventuali presentazioni in modo da incontrarti fisicamente allora prossime presentazioni vi dico già che saranno anno 21 così ci possiamo organizzare per te esatto perché quest'anno per la fine dell'anno devo concludere delle cose purtroppo altri impegni impellenti non intendo nello specifico non non riuscirò a organizzare presentazioni ci sta 2025 riprenderemo presentazioni se mi seguite su instagram elena parigi c'è tutto senza senza ombra di dubbio insomma poi invece per quanto riguarda i punti vendita ce ne sono già due e sono speciali anche i punti vendita sono speciali e sono proprio nel mio cuore perché uno è un ristorante che amo alla follia che viene nominato anche spesso nel libro di cui non possiamo dire il nome ma se voi andate sul profilo instagram non lo diciamo lo dico perché c'è il libro in vendita velocemente così non è una promo baretto di san vigilio detta non ho sentito e poi dove lo troviamo il libro oppure l'ho trovata il concept store teresa che anche quello è un luogo molto molto carino sì e invito tutti a farci una passeggiata se andrete con i bambini sarete rovinati esatto non uscite più da teresa però andate soli o sole e acquistate il libro esatto potete fare due tappe per esempio baretto di san vigilio cenetta e libro quindi ottimo questo libro da proporre anche come regalo perché adesso ci avviciniamo alle feste natalizie secondo me da mettere sotto l'albero un libro è sempre una cosa molto buona e molto positiva quindi io ve lo ricordo un'estate con carolina Elena Parigi grazie per essere stata con noi grazie grazie mille